Questo video è destinato a tutti coloro che non hanno problemi di natura economica. Ecco i 31 motivi per abbonarsi. Risparmieresti il doppio dei soldi. Hai rotto le palle per anni perché volevi una campagna acquisti di livello e adesso fai il timido. Così ti giochi la credibilità. È semplicemente il tuo dovere. Tifoso. Chi sostiene appassionatamente una squadra. Guarda che il buon notito farà come la Roma eh. Ti metterà i biglietti al triplo per farti capire la differenza e il prossimo anno ti abboni. Tanto vale farlo quest'anno no? Il prossimo anno Milinkovic parte. Lazio! 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 Preferisci tra primo e secondo tempo guardarti la pubblicità della prostata? Oppure cantare tutto per pulirla, oh oh, per farla più bella! Quest'anno con l'abbonamento, se compri una maglia ufficiale, puoi avere la personalizzazione gratuita. Marcelo 12. I romanisti ci sfottano così tanto per questa storia degli abbonamenti che forse sarebbe il caso di ammutolirli una volta per tutti, non pensate? C'è chi si è abbonato vivendo a Palermo. A Palermo. Volere è potere. Luiz Salvetto si beve Marin e parte da solo, con la bacchetta in mano, palla immobile, apertura dall'altra parte... Maggi la buttana! Abbiamo una squadra che ci farà divertire. Io ho conosciuto la mia fidanzata grazie alla Lazio, a buon intenditore. Magari capiti in un posto vicino ad una bella ragazza. Nelle partite successive da abbonato la ritrovi lì. Vi parlate, vi conoscete, Romagnoli segna il derby e in un attimo vi ritrovate uno con la lingua nella bocca dell'altra. Ciro Immobile, l'attaccante più prolifico della nostra storia. Mi diverto solo se... Solo se... È semplicemente stupendo sentirsi parte di qualcosa. Se Dio volesse arrivassimo in semifinale di Europa League, per la vendita dei biglietti la società darà la precedenza agli abbonati e tu rimarresti col cerino in mano. Mi è capitato qualche anno fa, per la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Ti assicuro che non è per niente piacevole. Lo ha chiesto Sarri. Per non sentire pardo che durante la partita della Lazio si mette a contare i gol di Abraham in Conference Dig. Se dimostriamo al buon lotito di fare la nostra parte, magari anche lui continua a fare la sua. Ci sono io? No, forse questo è un motivo per non abbonarsi. Mio padre mi fece abbonare per la prima volta all'età di 12 anni. Ecco, se vuoi che tuo figlio cresca e diventi un infognato, fagli l'abbonamento. Vi assicuro che allo stadio si vedono delle scene che neanche nei cinepanettoni italiani degli anni 90. Ecco, da casa non te può vedere, c'è il tetto. Hai presente le coreografie stupende per cui ti vanti tanto? Ecco, invece di vedertele dallo schermetto di un computer, forse puoi godertele dal vivo o addirittura farne parte. Forse non ci sarà più i sai. Forse, eh? Chi ti dice che il prossimo anno sarai vivo? No, questa è brutta però. A parte gli scherzi, è vero. Non sai mai cosa può accadere un domani. Hai la fortuna di essere laziale. Goditi la Lazio finché puoi. La verità è che basterebbe uno di questi 30 motivi per abbonarsi. Forza Lazio, sempre per sempre. Grazie. Grazie.